Ogni incontro fra cristiani è un abbraccio e non può non diventare eucarestia, ossia rendimento di grazie. E la comunità di Certeno, gli 650 abitanti in Val Fontana Buona, un territorio vasto e piuttosto articolato, ha ricevuto l'abbraccio del vescovo Giampio De Vasini. La visita del pastore annulla anche le distanze più complesse da accorciare, costituisce la comunità in unità e concretizza la fraternità. Tutta la comunità è in festa, non solo di Ferragosto, ma soprattutto dell'Assunta, che era la nostra patrona della parrocchia. È una festa molto antica per noi, perché c'è stato anche questo momento finale del lancio dei paroncini, che è corregato all'affidamento dei bambini della comunità alla Madonna. E quindi sui paroncini veniva corregato un messaggio, un'intenzione per la preghiera, per l'intercessione alla Madonna. E quindi è anche bello che tutta la comunità partecipa, compresi anche i bambini. C'è meno paura quest'anno e anche i più fragili vaccinati hanno potuto partecipare alle celebrazioni. Un motivo di gioia per il parroco, entrato in questa e nelle altre comunità, lui è affidate pochi mesi prima dell'inizio della pandemia. E così quest'anno c'è stato il catechismo prima via Zoom e solo in un secondo momento in presenza, grazie alla disponibilità degli enti che hanno concesso gli spazi dell'ascito cuneo e della scuola a Calvari, il paese che è diventato un po' il centro per la pastorale. Gli adulti hanno invece proseguito il cammino vicariale, un abbraccio virtuale quindi, ma non solo. E vorrei davvero ringraziare la Madonna, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno davvero preparato questa festa e soprattutto ringraziare il Vescovo che ci ha aiutato a pregare, dandoci davvero una buona parola che noi davvero ricorderemo sempre. Il credente non è colui che fa delle cose per Dio, magari poi accampando addirittura dei diritti nei confronti di Dio, perché se io ti do e tu non mi dai, allora i conti non tornano. Il credente non è colui che fa delle cose per Dio, ma è colui che lascia che Dio faccia delle cose per lui.